Il suo mistero è la discesa dello Spirito Santo. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro parameto perché rimanga con voi per sempre. Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Preghiamo perché lo Spirito Santo faccia sorgere delle nostre comunità numerose vocazioni missionarie disposte a consagrarsi pienamente alla diffusione del Regno di Dio. Per ter misterio, la venina del Spirito Santo in Pentecostés. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todo hombre. Oremos por los enfermos y, in particular, por los niños enfermos. The third glorious mystery, the descent of the Holy Spirit on the Apostles. Filled with the Holy Spirit, the Apostles proclaimed the marvels of God. With Mary, let us all proclaim the wonders of God in our own language. 3. Gloriches Geheimnis, the send of the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit, the Apostles proclaim the Holy Spirit. Let us pray that we also proclaim the Holy Spirit in word and truth. The Holy Spirit, 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 the Apostles and it will happen in the last days, Re rif in the Lord says the Lord, the He is He is conceded over all the people. Laten we met de jonge Bernadette, met de jonge Maria Bidder voor onze jonge mensen Dat ook zij hun weg mogen vinden Om mee het Rijk van God op te bouwen MUZIEK 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.